Splendida vittoria della Bartoccini-Gioiellerie Perugia che batte il Conad Olimpia-Teodora Ravenna per 3-2, lo stesso punteggio realizzato nella partita di andata. Dopo oltre due ore di gioco, le magliette nere del presidente Antonio Bartoccini si impongono sul parquet del Pala Evangelisti nell'incontro valido per la sesta giornata di ritorno del campionato nazionale di pallavolo di Serie A2 femminile. Perugia scende in campo con Mazzini, Lotti, Zuleta, Repice, Pascucci, Tomic e Gianpietri come libero, mentre Ravenna con Bacchi, Dodorico, Scacchetti, Torcolacci, Menghi, Caglialine come libero Paris. Il primo set si sviluppa punto su punto, con le Ravennate sempre in leggero vantaggio, finché il distacco non si allunga facendo sì che il parziale si chiuda sul 20-25. Nel secondo set Ravenna parte bene, ma è subito ripresa e superata dalle ragazze di Fabio Bovari. Il momento positivo prosegue con Lotti, Zuleta e Pascucci che permettono alla Bartoccini di allungare. Le avversarie non mollano, ma il set si chiude comunque 25-19. Anche il terzo set comincia punto su punto fino a 4-4, poi la partita diventa altalenante fino a che Ravenna non inizia a macinare punti, portandosi sul 17-23 e chiudendo il set sul 18-25. Il quarto set inizia con Ravenna leggermente avanti, ma Perugia recupera subito. L'Olimpia si fa sotto, ma Perugia riallunga e si prosegue con la Bartoccini sempre avanti fino al 25-20. Si va quindi al tie-break con la Bartoccini inarrestabile che conduce la partita sempre tallonata da Ravenna. Dopo l'ultimo time-out sul 12-10, una schiacciata di Silvia Lotti e due punti segnati da Minatomic chiudono il match su 15-10 finale. A fine partita il presidente Antonio Bartoccini ha consegnato a Minatomic il premio come miglior atleta della partita. Il risultato più tondo di questo credo che era, almeno per quanto riguarda i pronostici, non programmabile. Abbiamo giocato una buona pallavolo, l'abbiamo riportata a casa con 3-2, lottando ogni sette. Questo secondo me già ci deve servire come punto di ripartenza. Dall'altra parte c'era una buona squadra con delle forti individualità che ha fatto prevalere alcuni frangenti di gioco i loro valori. Tomic era stata chiamata perché avevamo bisogno di un giocatore da posto 2, visto che Jessica Bucciaceschi si operava. Abbiamo sia in lei che sia nell'altro posto che viaggiano in allenamento e tirano da morire entrambi. Si fanno delle scelte. In questo momento ha giocato molto bene Mina, ma ricordiamoci che un giocatore solo in questo sport non fa la differenza. Ha fatto il suo, l'ha fatto a muro, l'ha fatto in battuta, l'ha fatto in difesa, ma è stata coaduvata da un buon palleggio, una buona situazione di cambio palla e una grandissima buona situazione di break point. Quindi sì, è vero che ogni pallone lo capitalizza al meglio, ha un'esperienza probabilmente superiore per la categoria, ma diciamo che in questo momento è una squadra che sta lavorando forte per lei e per le altre. Sono contenta perché io qua sono a casa e non giocare al meglio, sai, magari davanti ai tuoi genitori, ai tuoi amici, non ti fa stare male, però oggi c'eravamo tutte. Noi siamo una squadra che purtroppo se uno fa 30 punti e le altre niente, non si vince. Magari altre squadre ce la fanno. Noi se giochiamo bene tutte ce la facciamo. Se anche solo una pedina viene a mancare, nonostante abbiamo una rosa veramente abbastanza lunga, facciamo fatica. Oggi sì, è stato bello, sono contentissima. Non ho mai pensato che la squadra mollasse, perché poi è una cosa che si sente alla fine. E anche dopo il terzo set perso siamo rientrati in campo e si vedeva che c'era voglia di vincere, di vincere e arrivare poi al quinto. C'era un vecchio allenatore toscano che diceva, un si vince coberci, è la verità? Un si vince coberci, è vero. Purtroppo non si vince coberci, perché sennò sarebbe molto facile. La palla ed ecco la chiusura!